Per i spettatori di Telegenova vi avevamo presentato la nascita di una nuova web serie tutta al genovese Veggetti. Oggi i due giovani esordienti con la loro casa di produzione volano in California al New Media Film Festival. Ascoltiamo Edoardo Bellanti. Veggetti vola a Los Angeles il 9-10 giugno al New Media Film Festival. Ci racconti questo percorso diciamo internazionale che ha fatto la vostra web serie? Veggetti è nato in realtà come progetto che facesse leva fin da subito a livello locale per cui appunto dialetto, personaggi proprio genovesi e località genovese e quant'altro. In realtà abbiamo fin da subito avuto anche dei feedback positivi da persone fuori da Genova e dopodiché appunto giunti a superata la metà della serie abbiamo provato di scrivere ai festival, diciamo i vari festival che ci sono in Italia e fuori dall'Italia relative alle web serie. Uno di questi è il New Media Film Festival insieme a un altro anche in un altro nostro lavoro e hanno selezionato invece proprio Veggetti contro ogni aspettativa, quindi ovviamente abbiamo sottotitolato addevitamente le fondate. Per il prossimo anno avete in mente, avete dei progetti nel cassetto per una seconda serie? Non possiamo ancora rivelare troppo perché siamo ancora in fase di conclusione della prima stagione e stiamo facendo delle valutazioni per vedere se poter continuare o meno, in quanto questa prima stagione appunto era completamente autoprodotta e l'idea era quella di farci conoscere e cercare finanziamenti. Diciamo che l'intenzione da parte di tutto il team è quella di continuare. Abbiamo già avuto i primi interessamenti di possibili sponsor, possibili finanziamenti. Diciamo che siamo molto positivi a riguardo per cui noi stiamo già pensando a tutto quello che riguarderà la seconda stagione e vedremo, a pochissimo sapremo se sarà realizzata o meno. Giusto per la conclusione della prima stagione che chiuderà con la prima, l'ultima puntata verrà trasmessa appunto la prima settimana di luglio e abbiamo deciso di fare questo appuntamento aperto al pubblico che si terrà alla Feltrinelli, la libreria Feltrinelli di Savona e dove appunto presenteremo un po' la serie, ci saranno ovviamente oltre che noi anche gli attori dal vivo si potranno fare domande, giusteremo un po' di dietro le quinte e magari riusciremo già lì a svelare qualcosa sui progetti futuri e quindi la possibile seconda stagione. Ecco, come seguire vi domanderete la nuova serie Vegetti? Potete farlo, potete farlo su YouTube e Facebook alla voce appunto Vegetti.